ciao a tutti e bentornati su mangia pagine io sono veronica e oggi come tutti i mesi vi porto le letture del mese ovviamente di gennaio allora anche gennaio come a dicembre non ho letto tantissimo però diciamo che ho letto dei libri molto pregni pregni di significato e anche a livello di mole quindi mi hanno portato via un po di tempo però sono molto soddisfatta delle mie letture vi parlo subito di due libri che fanno parte di una serie che sto leggendo da un po e sto parlando della serie dei casalè ho letto il tempo dell'attesa e confusione di elisabeth jane howard di questi libri non posso parlarvene poi molto perché comunque appunto è una saga una famiglia di questa famiglia appunto dei casalè che si ritrovano catapultati nella guerra siamo nella seconda guerra mondiale appunto ci si trova comunque a cambiare le abitudini anche dalle più semplici le abitudini alimentari ma anche le abitudini di vita perché ormai tutto è razionato sono razionati gli alimenti è razionato il vestiario bisogna insomma un po far sulle maniche e tirare avanti in questo periodo buio e poi abbiamo il periodo comunque in cui anche le giovani soprattutto le ragazze della famiglia casalè stanno crescendo quindi sbocciano i primi amori il corpo cambia e comunque è una saga che sta diventando sempre più interessante io ormai sono al quarto volume e quando finirò tutta la saga penso che farò un focus proprio su tutti i libri perché merita molto ero molto scettica all'inizio quando appunto ho iniziato a leggere questa questa saga ma adesso mi sono molto ricreduta e sono molto contenta di averlo fatto per natale poi mi è stato regalato questo bellissimo volume di graphic novel che è saga volume 1 è il volume deluxe anche di questo sicuramente della storia avrete già sentito parlare la storia non è una novità assoluta i due personaggi diciamo sono innamorati e hanno avuto una bambina e non è nuovo perché comunque sono due due fazioni diverse ma è sempre bello vedere come questi questi temi sia l'amore sia la famiglia sia il fatto di andare oltre a delle rivalità stupide che si basano soprattutto su concetti stupidi quali il concetto di razza e di nazione di appartenenza è bello vedere questi concetti comunque messi anche all'interno di un graphic novel io ve lo consiglio sono stata molto contenta di averlo letto era da tantissimo tempo che volevo leggerlo quindi se riuscite affrettatevi e comunque il volume deluxe io non ho idea di quanto costi però secondo me a livello di prezzo vi conviene di più prendere questo che tutti i volumetti da soli ecco poi sempre una lettura di un libro che avevo ricevuto a natale che ho scelto proprio perché non riuscivo a trovarlo da nessuna parte se non appunto comprandolo online è del mangiare carne di plutarco trattato sugli animali di questa edizione ad elfi è comunque un saggio si può definire in questo modo perché sono alcuni scritti di plutarco in cui ci sono vari personaggi perché si passa da da omero da maga circe addirittura un pescatore e un cacciatore che parla quindi è tutto rivolto all'idea dell'uomo se è nato o meno per dover mangiare gli animali e quindi sono questi piccoli trattati talvolta non sono molto semplici infatti alla fine del libro si trovano le note e io l'ho letto sempre con un occhio dando uno sguardo comunque alle note perché magari il trattato iniziava in media res quindi si era lì che non si capiva molto bene di che cosa parlasse però le note sono fatte molto bene non è una lettura semplice secondo me per quanto anch'io l'abbia trovata non difficile però comunque non sapendo molto bene plutarco non conoscendolo come autore particolarmente bene insomma ho fatto un po fatica anche se in realtà l'edizione è fatta comunque bene perché all'inizio abbiamo un'introduzione che aiuta molto in questo caso io non sono molto da introduzione ma in questo caso secondo me leggete tutto il libro sia l'introduzione che le note perché riuscirete a capirlo un pochettino meglio poi ho fatto una rilettura credo che sia la terza o quarta volta che leggo questo libro e sto parlando di and then there were none di Agatha Christie in inglese appunto è la versione in inglese di dieci piccoli indiani della Christie è sempre molto bello rileggere questo libro per chi non conoscesse la storia diciamo che dieci persone molto diverse fra loro scusate vengono invitate in una casa su una scogliera da un fantomatico signor Owen o comunque qualcuno che abbia questi iniziali e una volta che si ritrovano queste dieci persone nel salone parte una voce dal grammofono e spiega che tutti sono accusati di determinati crimini e sono lì per espiare le proprie colpe come le spieranno diciamo che segue segue un po la filastrocca dei dieci piccoli negretti e dieci piccoli indiani ovvero che ne muore uno per volta fino a quando and then there were none quindi fino a quando non resterà più nessuno fino all'ultimo non si riuscirà a capire chi è il fantomatico assassino diciamo di questi di questi personaggi e è scritto sicuramente molto bene perché anche in inglese è molto godibile non è un libro con Poirot o con Miss Marple è un libro diciamo estemporaneo io sicuramente ve lo consiglio lo consiglio sicuramente in italiano ma anche a chi ha comunque un breve diciamo una conoscenza intermedia di inglese può benissimo farcela ecco infine visto che ero presa molto bene con con i gialli ho letto la squilla il delitto di lembrate di dario crapanzano è il primo libro di questo autore che leggo e mi è piaciuto molto mi è piaciuto allora devo fare una separazione mi è piaciuto molto lo stile mi è piaciuto molto la descrizione comunque degli ambienti perché si rifà un po all'idea di uno scerbanenco perché parla della Milano e lo fa della sua Milano e lo fa in modo molto credibile perché comunque lo scrittore è una persona che ha quasi 80 anni quindi parla della sua Milano come era realmente quando lui era giovane e appunto si vede che lui ci ha vissuto insomma non è non è niente di forzato è la descrizione veramente molto bella dei luoghi e appunto non è è di da scalica e serve per far da sfondo alle vicende la trama in sé l'idea è carina nel senso che questa squillo diventa un'investigatrice privata sostanzialmente un'amica di rita che è la protagonista viene accusata ingiustamente di aver ucciso il suo fidanzato e lei cerca di capire in realtà cosa sia successo quindi l'idea è molto carina la diciamo come come si è risolto il tutto è forse un pochettino prevedibile però nel complesso è un bel libro leggere un bel giallo da leggere ecco detto ciò io vi ringrazio per essere stati ancora una volta qui con me a vedere insomma i libri che che ho letto in questo mese se qualcuno ha letto uno di questi libri o comunque vuole chiedere qualcosa qualcosa sicuramente può farlo sia nei commenti che come al solito vi rimando al gruppo di telegram il link ve lo metto appunto in infobox vi ringrazio ancora vi do appuntamento al prossimo ciao ciao